L'autunno a Pordenone si illumina della luce di Guidi e del colore di Vettori, con una doppia mostra ospitata negli spazi della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato, promossa dal Comune di Pordenone, Virgilio Guidi, il destino della figura, e Luigi Vettori, un'eredità spezzata. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattarruzza. Sono allievo e maestro, quindi abbiamo voluto celebrare il centenario della nascita di Vettori, con una grande mostra, anche una pubblicazione che abbia un contenuto di carattere scientifico, che faccia luce sull'ombra di questo grande talento pordenonese d'adozione, che ha saputo esprimere pur nei 28 anni della sua breve vita, perché ricordo che è morto poi in guerra, e quindi ha saputo esprimere un grande talento e un numero notevolissimo di opere di grande qualità. Quindi questo è il percorso che con coerenza prosegue, diciamo, ed è l'ultima mostra del 2014 che facciamo in Galleria e spero che abbia un riscontro di pubblico e di critica come si merita. Le caratteristiche delle mostre nelle parole di Casimiro di Crescenzo. Vettori fu allievo di Guidi all'Accademia dal 1932 al 1935, quando decise di partire come volontario in Libia, e da Guidi imparò la concezione veramente moderna dell'arte, sia per gli insegnamenti che poteva ricevere all'Accademia, per affrontare invece la modernità che era rappresentata da Guidi, ma anche dai maestri a cui Guidi guardava, come Matiso o Sesanna. La mostra sarà aperta al pubblico dall'8 novembre all'8 marzo.